Grazie a tutti. Le peculiarità di tutte le valli ossolane, ne abbiamo selezionate otto, attraverso un percorso che va dagli aspetti naturalistici all'impronta dell'uomo, quindi l'architettura, alla parte relativa invece all'arte e alla cultura dei territori. Si fa una navigazione in cui si riescono a vedere i contenuti muovendosi all'interno di un ambiente tridimensionale attraverso un videogame interattivo. È un tipo di installazione innovativa che ho creato io, l'ho chiamato Power Boeing, utilizza i motori di gioco come i moderni videogame. E' stato ben collocato all'interno di questo spazio e sta funzionando tutto molto bene. Il dottor Antonini fa vedere come si naviga muovendo le braccia sopra dei sensori. Grazie. 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 Grazie.